ciao a tutti dopo aver parlato dei coniugi milanesi andiamo a parlare di un altro personaggio abbastanza controverso in questo angolo di youtube e parliamo di giuseppe alias giuseppe lottrop tutti sappiamo più o meno le vicende di quest'uomo di 42 anni però insomma voglio fare un piccolo riassunto molto molto stringato per far capire poi come si è arrivato come si è arrivati a quest'ultimo video il video del quale vi parlerò fra poco allora giuseppe è stato l'ex di chiara ad alessandro sono stati insieme per anni dopodiché lui è letteralmente fuggito da questa donna ed è andato a vivere con un'altra persona con questa persona è stata appunto stato anche lui diversi anni ha avuto anche un figlio che purtroppo non è in vita e dopo un po insomma anche questa compagna è venuta a mancare quindi diciamo che ci sono state delle tragedie nella vita di giuseppe tragedie che poi si sono andate a sommare a quella che è appunto la sua tragica vita nel senso che questa persona purtroppo ha delle dipendenze da sostanze e anche da alcol quindi è una persona abbastanza problematica dopodiché cosa è successo che giuseppe ha trovato praticamente nella in chat diciamo su youtube l'amore in una ragazza che si chiama serena questa ragazza insomma anche lei pare abbia dei problemi ha anche dei bambini e comunque si sono messi insieme almeno in maniera virtuale dopodiché cosa è accaduto che lui non seguendo i consigli di serena che gli aveva detto di non anticipare i tempi e di aspettare parte da milano e va dove sta lei se non sbaglio roma praticamente per stare appunto insieme a questa ragazza serena gli aveva detto di non fare le cose in maniera affrettata perché lei comunque doveva studiare voleva diventare os se non vado errata e quindi gli aveva detto insomma di aspettare di fare in modo che lei fosse calma per arrivare appunto per finire gli studi dopodiché insomma avrebbero parlato di quello che sarebbe potuta essere la loro vita insieme lui non l'ha ascoltata è partito è andato da lei però insomma le cose non sono andate benissimo infatti si sono anche ritrovati a dormire per strada e a questo punto lei si è allontanata perché giustamente anche avendo dei bambini insomma non era una vita che poteva fare lui è ritornato a milano e ha avuto anche delle crisi particolari tanto che è stato anche ricoverato in un reparto credo di psichiatria in ogni caso è stato ricoverato e pare si stia curando ecco e pare insomma che abbia deciso di cambiare vita io questo lo spero davvero tanto per lui non per il contorno nel senso la sua storia con serena che può essere importante sicuramente però la cosa importante secondo me a prescindere da quelle appunto che possono essere altre cose nella sua vita l'importante che si dia insomma una sistemata a lui che dia una sistemata alla sua vita in questo video che si intitola chiedo scusa mia madre serena i miei fratelli e tutti voi utenti che cosa dice innanzitutto lo troviamo seduto per terra che giocherella con una prolunga una spina insomma qualcosa del genere è abbastanza commosso e dice che è triste e si rivolge alla madre dicendole che lui è sempre stato un drogato e anche un ubriacone e che ad un suo compleanno che credo al compleanno della madre le ha detto delle brutte parole e per questo le chiede scusa dice che sta soffrendo per il figlio per l'ex compagna che è venuta a mancare anche per serena serena e i suoi bambini dice poi che non è stata colpa di serena se lui si è ritrovato per strada perché appunto lei gli aveva detto di non andare da lui ma lui non l'ha ascoltata chiede ancora scusa alla madre direi che in questo video è abbastanza approvato lui piange anche si commuove molto e dice che lui in questo periodo non si sta non sta facendo né uso di sostanze e non sta neanche bevendo e non sta neanche sclerando dice così dice che è andato anche dall'assistente sociale e vuole andare in una struttura perché non si fida di se stesso e vuole curarsi al massimo e noi perlomeno io glielo auguro vivamente chiede ancora scusa alla madre che in questo video insomma chiederà molte molte volte scusa alla madre chiede scusa anche ai fratelli ai quali a quanto pare chiedeva solo soldi dice la mamma che serena è una brava ragazza e che serena appunto vuole conoscerla cioè serena vuole conoscere la madre di Giuseppe e lui insomma comunque vuole cambiare vita ringrazia una certa Barbara che l'ha convinto a fare questo video e pare che anche questa Barbara abbia parlato con la madre alla quale madre lui vuole molto bene poi le fa vedere le pastiglie che sta prendendo insomma per farle proprio capire che lui vuole ha intenzione questa volta di curarsi e deve fare anche dice l'essenzione per evidentemente prendere queste pillole dice ancora alla madre di non prendersela con serena e piange dice poi alla madre una cosa secondo me molto bella cioè dice che ha bisogno di lei e le chiede di chiamarlo tira varie volte su con il naso perché insomma si vede insomma piange quindi anzi chiede anche scusa perché sta tirando su con il naso e poi parte con delle canzoni delle canzoni dedicate alla sua ex che non c'è più alla madre a Serena e poi anche a vari altri personaggi quali ad esempio gli anziani allora cosa dire di questo video innanzitutto che comunque la voglia di cantare a Giuseppe non manca mai devo dire però insomma che queste canzoni le ha scelte proprio bene nel senso che ascoltandole queste canzoni sembra che le abbia scritte lui appunto per dedicarle ai personaggi della sua vita quello che non capisco io sinceramente è perché lui chiede alla madre di chiamarlo perché senta di fare senta l'esigenza di fare questo video e non chiami lui non la chiami non parli insomma direttamente con la madre tutte queste belle parole non gliele dica appunto al telefono visto che insomma sono abbastanza lontani e non possono parlarsi faccia a faccia per quanto mi riguarda insomma ho pensato che probabilmente la madre ce l'aveva con lui perché appunto si era comportato si è comportato male in passato sia con lei che con tutto il resto della famiglia e quindi magari non vuole sentirlo non vuole magari avrebbe anche rifiutato una sua telefonata e quindi magari lui con questo video ha voluto dirle io vorrei sentirti cioè ha voluto dirle le ha detto apertamente io ho bisogno di te mamma io in questo momento voglio che tu ci sia nella mia vita però insomma lascio a te diciamo i tempi per poterlo fare per poter rientrare nella mia vita e quindi lascio a te il compito fra virgolette di chiamarmi e di sentirmi aveva detto appunto che lasciava il numero di telefono a nostra amica che se lei voleva insomma poteva chiamare questa persona e farsi dire il numero del figlio dopodiché chiede anche alla madre di parlare con Serena perché evidentemente da quello che si è capito da questo video la madre dà la colpa a Serena di come insomma si è ritrovato il figlio e lui ribadisce che non è assolutamente colpa di Serena perché Serena lo aveva avvisato ed è stato lui che non ha voluto appunto ascoltare gli avvertimenti di questa persona che comunque questa persona gli è stata vicina dice anche si capisce anche che lui vorrebbe appunto star vicino a questa Serena perché insomma la ama e vorrebbe stare anche vicino ai suoi bambini però per come sta in questo periodo questa cosa ovviamente non è possibile soprattutto per quanto riguarda i bambini di Serena cosa dire io spero che il cammino di Giuseppe prosegua nel senso che lui possa ritrovare la serenità la lucidità e possa veramente cambiare vita perché insomma a 42 anni se vuole avere veramente un rapporto serio e duraturo con una persona sia essa Serena o insomma un'altra donna deve comunque pensare prima a rimettere a posto la sua vita perché così com'era non è d'aiuto a nessuno né a se stesso né ad altri e non può aspettarsi che una persona si faccia carico anche dei suoi problemi assolutamente quindi cosa dire facciamo gli auguri tanti in bocca al lupo a Giuseppe e speriamo che la madre raccolga il suo appello e che lo chiami e io con questo vi saluto come al solito se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi un like se volete lasciate un messaggio ciao a tutti e alla prossima un bacio grazie a tutti